Ok, adesso mi puoi togliere la scarpa, grazie. Vai. Puoi abbassarti, grazie. Metti il ginocchio? Sì, certo, devi metterti il ginocchio per forza, che domande sono... Per favore non rispondere, non è che c'ho tempo per queste cose, eh. Palla bene questa roba. Sì, sì, sì. Con calma, i miei piedi sono delle creature sacre. Non è che possiamo stare qui a trattarle male, lo sai cosa succede se non le tratti bene, vero? Ok. Ok, me li massaggi un po', che è un po' di freddo, grazie. Massaggiali bene. Anche là, bravo, bravissimo. Oh, che belle mani calde. Bravissimo. Stai parlando come un maestro. Certo, qui c'è poco da ridere. No, esatto. Non voglio fare una strage oggi, eh. E tu stai zitto. Stai parlando come un professionista. Stai zitto, fai il massaggio, obbedisci. Ok. Oh, che bello. Chienili tutte e due in mano. No, non è me. Ehi, ti ho detto di fare il massaggio. No, io sono a vuoto e sono pieni. Una vuota che muto e l'altra piena l'ho appena aperto.